scegli del buon burro e prepara il tuo ghi il ghi è un'antica ricetta arrivata a noi dalla filosofia di vita ayurvedica viene detto anche burro chiarificato e viene considerato un elisir di salute e longevità segui il video e leggi come si crea nella descrizione qui sotto con un proseguimento